Sono Jerry Scotti, Scotti Marci, Marci Scotti, Scotti Marci Who wants to be a meteor? 3, 2, 1 Eccoci qua La concorrenza ce l'abbiamo, la gioca ce l'abbiamo, la cravatta anche La cravatta tram può fare un grandissimo volo Iniziamo il gioco ragazzi Benissimo, la nostra connessione di oggi è fortemente cagata Iniziamo con la prima domanda Quale di questi oggetti usa un direttore d'orchestra, un violino, una chitarra, una bacchetta o un bastone? Federico qua, ora oggi siamo qua Andiamo veloci, andiamo veloci Vediamo qual è quella giusta Perché non è detto che sia questa Ma invece è proprio così Quale di questi paesi non ha una bandiera rossa, bianca e blu? Non ha una bandiera bianca, rossa e blu La Francia, gli Stati Uniti La Gran Bretagna O la Svizzera La Svizzera del nostro amico Riccardo E la risposta esatta Le ricordo che ha guadagnato ben mille stelline Quale di questi non è un film Disney? Frozen Rapunzel, l'intreccio della torre Coco O Minions Rapunzel e Frozen sicuramente Adesso è un film Disney Perfetto E già così lei ha fatto un 50-50 nella sua testa Coco non ho idea di cosa sia E Minions Presumo siano quelli di cattivissimo Però non so se abbiano fatto un film Sui Minions Allora, ad intuito ti direi Coco Vogliamo utilizzare un aiuto? Visto che la vedo un po' in difficoltà Le ricordo che abbiamo anche lo Switch di domanda Sarebbe più semplice Anche perché il 50-50 potrebbe servire in futuro Andiamo sullo Switch Andiamo sullo Switch, perfetto Per curiosità, cosa avrebbe risposto lei? La C La C di Coco E le dico che Minions era la risposta esatta Quindi avrebbe sbagliato Quale famoso skater ha una serie di videogiochi intitolata a lui? Tony Hawk Bucci Bucci Laser Tony Hawk Bob Bursgist Geoff Rowley La B La B Vogliamo accendere la nostra risposta? Assolutamente sì Assolutamente sì Accendiamo la nostra risposta Eccoci qua Abbiamo guadagnato ben 1500 stelline Possiamo continuare la nostra scalata In quale videogioco si affronta Mr. Bison? Street Fighter? Tekken? Soul Calibur? O FIFA? Allora escludo sia FIFA che Tekken Street Fighter l'ho giocato ma non ricordo In questo caso Visto che il mio dubbio è tra Soul Calibur e Street Fighter Utilizzerai il 50-50 Sperando che questo 50-50 vada a togliere uno tra Street Fighter e Soul Calibur Sì Ah perfetto Vado sulla Street Fighter Street Fighter La tua risposta è definitiva Ma è giusta Ci siamo Siamo arrivati a 2000 stelline Qual è il vero nome di Iron Man? Ma lo so La B Steve Robert Tony Stark Peter Parker O Elon Musk Andiamo su B E accendiamo la B Abbiamo vinto 3000 stelline Domanda successiva Come si chiama la nostra galassia? Omega Centauri Andromeda Nube di Magellano O Via Lattea? Sono abbastanza sicuro che sia la D Quindi vado a sentimento e dico la D anche rischiando Accendiamo la D E andiamo a vedere quale sarà l'esito Questa domanda Mi hanno rotto i coglioni Posso dirlo? I dialoghi di questi due Era proprio la Via Lattea Federico Complimenti Abbiamo vinto 5000 stelline Volevo ricordare al pubblico qua che sta assistendo Che tu hai avuto un passato nella musica Un passato frastornante Un passato il cui nessuno ha mai rilevato Detto E tutti però ne siamo a conoscenza Detto questo, questa breve introduzione Io le chiedo I quali strumenti non si usano la fanfara? La tromba, il tamburo, il trombone o il violino? La fanfara è la marcia Se la fanfara è la marcia no Allora è il violino D, il violino È giusto il violino Arriviamo a 7000 stelline Che equivalgono a più o meno 100.000 burst Dove vivono le Iene? In Europa, in Africa, negli Stati Uniti o in Cina? Andrò spedito È con grande stupore che posso affermarle che lei ha guadagnato un altro gradino della scalata verso il milione In quale gioco compare per la prima volta l'eroina Pauline? La cantante è di un gruppo musicale di Super Mario Odyssey Mario Tennis Aces Super Smash Bros Brawl Donkey Kong Mario vs Donkey Kong Siamo all'ottavo gradino per arrivare al quindicesimo Quindi facendo un paio di conti ci troviamo esattamente quasi a metà Ho giocato Mario però Mario Tennis Aces sicuramente non l'ho giocato neanche Super Smash Bros Quindi escluderei Donkey Kong e Mario vs Donkey Kong Federico? Federico Presidente Dico alla C Secondo me In quale manga? Uzuku Midoriya Vuole iscriversi di Chou Superiore a Wei Fur non avendo alcun superpotere Assassination Classroom Fast Food Wars My Hero Academy O One Punch Man Devo chiamare qualcuno per forza Sto chiamando Omega My Hero Academy Questa è la risposta My Hero Academy Ora andiamo ad accendere la C Io le chiedo se la vuole confermare signor Federico La confermo E' la risposta esatta Arriviamo a una cifra molto molto ghiotta 20.000 sterline Federico Federico Perfetto Federico Federico ha abbandonato lo SharePlay Federico sicuramente abbandonerà il party Federico le faccio una domanda Quale di questi giochi non è realizzato da Blizzard Entertainment? Overwatch Diablo Warcraft O Counter Strike? Ti dico già che Overwatch E Counter Strike Sono quasi sicuro che siano Siano insieme Chiedo l'aiuto della chat Ed è la risposta esatta Il mio carissimo Federico qua Abbiamo guonato 30.000 stelline La mia prossima domanda è Cosa sono i cani della prateria? Roditori, felini, canidi o insetti? Roditori Roditori Federico Lei è molto sicuro di questa risposta? Roditori Ed è la risposta esatta Che ha raggiunto la soglia di 70.000 stelline ragazzi Chi è il cantante del gruppo Imagine Dragons? Dan Reynolds Andrew Tolman Dan McKee O Daniel Platzman Dan Reynolds comunque Federico la sto accendendo Lei mi trasmette le stesse emozioni Che mi trasmette la finale del 2006 Lei ha raggiunto le 150.000 stelline Complimenti Federico Bel traguardo Come si chiamano le sculture presenti sull'isola di Pasqua? Moguai Moai Mordecai O uova di Pasqua? Allora Questa va La B La B Moai 100% Quale sarà il verdetto finale? Perfetto Federico Ottima risposta Arriviamo a 300.000 stelline Siamo arrivati all'ultima domanda Quale di questi sport non fa parte delle olimpiadi invernali? Sci combinato nordico Triathlon Bob O biathlon? Ok Allora Bob sicuramente fa parte delle olimpiadi invernali Sci combinato nordico Se non sbaglio Dovrebbe essere quello sport Dove Si lanciano Cioè il mio dubbio a questo punto è tra biathlon e triathlon Anche perché quello sport se non lo fanno alle olimpiadi invernali Quando lo fanno Cioè Il biathlon sono quasi sicuro che ci sia Io ti direi che Siamo in ballo A questo punto Balliamo E ti dico la B Triathlon È stato veramente un piacere Averla con me Per questo percorso La tensione in questo momento si può tagliare Con un coltello di plastica Signor Federico Mi voglio congratulare con lei Per questo enorme traguardo Prima di abbandonarci Signor Federico Vorrei chiederle Una semplice domanda Cosa ne farà di questo milione Di stelline? No ma io Non l'avevo ancora avvi Sto scopando Sto scopando